Bella ragazzi, qui è Randalone, oggi abbiamo un replay GOAT, abbiamo Amadeo Bordiga con 829 rating contro Berlin GOAT Master che vince il sasso carta forbe ok, parte Premature, Dimock, Pot, Moff, Tifone e Assalitore ok, non male, non male, non male il rosso parte Deku Sang Snatch Tribe Jar perfetto, vediamo Pot per un altro Moff ancora 7 Moff, 7 Tifone, va bene così si fa Upstart, pesca Spia 7 Deku Ichi, 7 Jara, passa, perfetto Giaro si mette Catifone, pesca questo, fa un Cristo, rifa Pot, pesca 2 porco il cazzo, pesca anche Tandadrago mannaggia lui setta 2, setta Silent, passa, buono, buona pescata buona pescata che manda via Tribe, ok Deku Ichi, pesca una figurina per Katsuk, non è male Sangano, aspetta a fare Graze ovviamente vuole Deku Ichi, poca perdita, va più che bene pesca un'altra Jar Upstart per Phoenix Wind Blast c'ha Snatch, c'ha questo, c'ha Jar, c'ha Dimock ma, quasi quasi no, niente va bene, decido di non farlo attende madonna che pescate una dietro d'altra Cristo Dio nocco sul Moff 1000 Sleepy, setta Spicepy ok, pesca il Sorcerer quindi sotto un'altra Jar pesca un'altra Phoenix Wind Blast beh, questa l'avrei settata prima c'è anche Premature vabbè Sorsi che vanno al Sangano set di figurina passa madonna oh le pescate una dietro l'altra cazzo una dietro l'altra incredibile incredibile ok Graze pesca tre ammato pescato due spie Cristo è questa punizione per non aver fatto prima spia normal scarta spia spacca tira si c'era da pensarla meglio secondo me questa però vabbè scarta rimette azuro priced è proprio GOAT è questo GOAT control Premature Sburial Ariad da Jara Jara pescanocco non è OTK però ci vado va sopra un treno adesso attiva duo fa BLS gli fa asura picchia 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 probabilmente 9000 non penso che sono 4400 cazzo si sono 9100 incredibile pazzurdo bellissimo OTK va bene è partito com'è calma 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 così ok è partito Omedea è partito Deco Sorcio Chicco Mirror Night Assalient Phoenix Windblast partenza mid riparte breaker doppio decreto mind tribe infecting virus e Night Assalient ok non fa mind bleffato anche perché sicuramente non ha un fede non ha senso fairo setta il decretone lui pesca il TD ok normal pesca 1 è normal si Filippo pesca 1 picchia muore setta spia setta Phoenix Windblast perfetto ok questo non è male AT UTS UTS baluz ok male male questa spia bruttissima Phoenix Windblast scarta decreto 1 in meno peccato però che a 9 è già sopra mezzo treno perché adesso gli fa gli fa Sorcio Kiko ah no non gli fa Sorcio ok va bene bello bello settato comunque up sta mamma mia che culo va bene non so cosa sta succedendo ok Grateful Charity ok scarta i due Sborre Dragon mamma mia virus qua che male che fa duo vabbè se back night assalient è male male vediamo 1 che culo buonissimo scarta riprende decosburix 9000 fa quello fa scarta questo mamma mia meno 3 che equalizer set escape goods oh pesca l'ustero attenzione questo è un malone l'ustero bitta bitta sono 4 e qua ah no ok ciò scape ciò scape per pararsi il culo mannaggia che culo ok e beh qua deve fare peffozza peffozza deve fare l'ustero banna l'ustero poteva fare l'ustero banna questo mind prende queste tanto dovreste sapere che è una deco peschiuna non ha più senso no vabbè certo non risolveva decoichi però mi hai capito che problema decoichi ok questo è un po' fortino va bene c'è una figurina qui deve stare attento a non giocare su robe strane tipo TT o cose vediamo cosa legge perché non vuole giocare contro TT mirror va beh se fosse stato ring sarebbe stato una brutta situa graceful charity pesca tre figurine scarta scape scarta scarti assalitore qui forse sì scarto a smeccio stillo interessante ring è arrivato un po' troppo tardi set a 1 vabbè qua un game lentissimo oh buonissimo il ginzone mannaggia ne ho aspettato il ginzone ok e qua adesso lui è forte per scape swap cioè swap per scape picche 2004 ha due due assalitori per fare qualsiasi cosa eh sì per ginzo incredibile ha fatto tutto lui e lui ha pescato solo trap incredibile bel replay raga bel replay un cazzo da dire che vi devo dire un like notati come se vi è piaciuto il replay e commentali vi ricordo di seguirmi su twitch e entrare nel discord che ci sono i tornei gratuiti con in palio 30 euro e ci vediamo al prossimo video bellissima ciao ciao